Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come domare i lupi nella stagione 6 di Fortnite. Domare i lupi è molto semplice. Dovete procurarvi prima di tutto carne e ossa. Potete sia acquistarli che ottenerli eliminando i lupi. Una volta che avete carne e ossa dovete craftare il mantello del cacciatore. Fatto questo indossate il mantello del cacciatore lanciate un pezzo di carne in modo che il lupo lo mangia. Dopodiché avvicinatevi al lupo e in questo modo potete domarlo.